Ciao a tutti, sono Giorgia, parlo di libri e fumetti. Oggi vi parlo di tutte le letture che ho fatto nel mese di marzo. Questa volta parto dai fumetti per poi passare a romanzi, libri saggi. Devo tirarmi fuori la lista perché se no mi scordo sicuramente qualcosa. Con i miei appunti... Parto da un paio di spillati, Harley Quinn 10 e 11. Sono incredibilmente in ritardo con la lettura di questi spillati, considerando che uscivano a... Non lo leggo... Queste sono uscite forse del 2020, 2021, non lo so, non mi ricordo. Li avevo fermi da tantissimo tempo, ma sono contenta di averli recuperati. In questi numeri Harley Quinn si ritrova a elaborare il lutto di un'amica dopo quello della madre, come se non fosse sufficiente quello che le è successo. Non crede alla storia che gli è stata raccontata sulla morte della sua amica, quindi inizia ad investigare con l'aiuto di Buster Gold, di cui io non ho mai letto nulla, onestamente, ma la sua apparizione in realtà stempera molto i toni, quindi non mi è dispiaciuta. Voglio proseguire. Devo solo cercare di capire se ci sono dei volumi per recuperare la storia in maniera un po' più economica, ma ci guarderò con calma, anche perché credo di avere ancora qualche spillato da leggere. Già in libreria. Ne ho accumulati toppi. Ma questa non è proprio una novità dell'ultimo minuto. Acquisto che ho fatto durante il mese è questa edizione di Marvels, l'edizione facsimile. Questa edizione è, dal mio punto di vista, un po' troppo costosa. Provo ad appoggiarla sul mio ginocchio, ma è comunque precaria. Si apre in questo modo e ha tutti gli spillati, compreso dell'epilogo che, se non erro, è la prima volta che viene pubblicato in Italia. E se riesco, metto qualche foto dell'edizione. Oltre al prezzo che è notevole, perché questa edizione costa 60 euro, è un po' troppo fragile, nel senso che il contenitore dei sei spillati non tiene benissimo e io ho paura che si rovinerà molto velocemente. È possibile recuperarla anche in un'edizione più economica, perché esiste anche nell'edizione must have, e anche in un'edizione più costosa, invece, da 70 euro, che è una versione annotata e che somiglia un po' alle edizioni di Sea Absolute, quindi quelle col cofanetto contenitore del cartonato, che hanno anche un formato più grosso di questo. Parlando della storia, è una delle storie più famose dell'universo Marvel, perché è una storia che è consigliata anche a chi non ha mai letto nulla di Marvel, ma magari conosce a grandi linee alcune storie dei supereroi, ed è una storia che ha fatto la storia del fumetto americano. Perché questo fumetto è così famoso, così conosciuto, così consigliato? In primis perché ha fatto qualcosa che non era mai stato fatto in questo modo, cioè ha raccontato la storia dei supereroi guardandoli dal punto di vista della persona comune. Infatti il protagonista di questa storia è un fotografo che lavora in un giornale e che osserva i combattimenti, le apparizioni di alcuni eroi dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista della persona comune, che li osserva comunque in una situazione un po' privilegiata facendo questo mestiere. Ciao Mimi! Il problema del microfono è che quando l'amiciona vuole venirmi in bacio io dovrò tenerlo così, ma va bene perché l'amiciona è il capo. Altro grande punto di forza di questo fumetto, che non si può assolutamente non nominare, il disegnatore è Alex Ross. Quindi ogni tavola è un'opera d'arte, assolutamente senza esagerare. Alex Ross è il disegnatore a cui è stato affidato il grande progetto di Variant del 2022-2023 della Marvel. Tra l'altro alcune le ho mostrate anch'io nei miei vari videoacquisti. I suoi disegni rendono tutto molto immersivo, la rendono una lettura molto veloce e allo stesso tempo è impossibile non soffermarsi su ogni tavola. con questo escamotage della visione dal basso di ciò che succede nell'universo supereroistico, dà la possibilità di ripercorrere un pochino la storia Marvel dai suoi grandi avvenimenti, la prima apparizione della Torcia Umana, la primissima Torcia Umana, ma anche l'incontro tra i Fantastici Quattro e Galactus. Si ripercorrono vari momenti, probabilmente il più emozionante è la morte di Gwen Stacy. Il più emozionante per me, ovviamente, ma... Cart Music ha fatto un ottimo lavoro alla sceneggiatura di questo fumetto. Io lo consiglio molto, ma è un fumetto anche molto consigliato, quindi probabilmente avete già sentito fare questo discorso varie volte. Altro classicone che ho letto nel corso del mese, non letti parecchi questo mese e non tutti soddisfacenti, è stato Berserk, il numero due. Io questa è Deluxe Edition, che non è molto deluxe, visto che ha il logo sbagliato, visto che è decentrato, dovrebbe essere in mezzo alla copertina. Onestamente a me non interessa, ho deciso che mi va bene così, perché avendolo così sono riuscita a pagarlo molto meno. A me è piaciuto molto questo secondo volume. È la prima volta che leggo Berserk, e me lo aspettavo diverso, e sono felice che mi abbia sorpreso in questo modo. Credevo che fosse un fumetto molto più legato ai combattimenti, invece c'è molto di più sotto, e sono felice, perché in realtà il primo numero non mi stava convincendo tantissimo. Questo secondo mi ha convinto ad andare avanti, anche se sono un po' pentita della scelta dell'edizione, perché è incredibilmente costosa e continuano ad esserci dei problemi su questa edizione. Tolto un problema di questo tipo, io sono comunque felice di averla trovata a un prezzo molto conveniente, ma anche il terzo numero ha avuto un mucchio di problemi. Ho sentito varie questioni sul discorso della traduzione, che in molti casi non è stata corretta o riveduta, ed è assurdo che l'unico modo per leggere uno dei manga più famosi, più conosciuti, ha non specchiato sia spendere 50 euro a volume, perché fondamentalmente la Deluxe Edition costa 50 euro ed è l'unica versione non specchiata del manga. Vabbè. Oltre a queste lamentele, io so che è un classico, so che è molto amato, ammetto che se la storia dovesse diventare spadoni, botte e nient'altro, mi fermerò, perché non c'è nulla di male a quel tipo di manga, ma non mi interessa, quindi è inutile proseguire. Sicuramente non andrà in questo modo, quindi sono serena. Per ora il terzo numero è già in casa che mi aspetta, comprato con gli sconti. Magari se attendo gli sconti può pure valerne la pena. Boh, non lo so. Tra l'altro di questo fumetto ho già parlato, perché ho fatto un reading blog in un weekend in montagna, in cui appunto ho letto Berserk. Quindi vi lascerò quel video nella descrizione e nelle schede, che credo siano da questa parte. Sono da questa parte le schede? Credo di sì. Poi ho letto Thanks, il numero due, che ho parlato anche nel video dei preferiti del mese di marzo. È un boys love per adulti con i vampiri. Per dare qualche informazione diversa rispetto a quel video, i motivi per cui mi sta piacendo sono principalmente lo stile di disegno, che mi piace molto, l'attenzione nei dettagli, nel look, nello stile sia dei protagonisti che dei personaggi secondari e anche nei dettagli più di sfondo, l'arredamento, anche cose che potrebbero essere considerate secondarie. Mi piacciono molto. In questo numero in particolare ho apprezzato come l'attenzione fosse così tanto sui protagonisti da far quasi scordare il mistero che c'è dietro la trasformazione di uno dei due protagonisti in un vampiro e il finale mi ha fatto tornare coi piedi per terra. Mi ha fatto anche venire una gran fretta di leggere il terzo, che però in Italia non è ancora uscito e non c'è una data d'uscita ad oggi. Poi ho letto Spider-Man, il regno. Questo è il momento in cui verrà offesa. Spero non succeda, ma c'è questo rischio, perché a me Spider-Man, il regno, non è piaciuto. Allora, ho sentito parlare di questo formato come di una sorta di formato cinema per leggere i fumetti della Marvel e lo capisco, perché le tavole così grandi sono molto immersive e meritano assolutamente. Secondo me non è la storia adatta, però, per delle tavole così grandi, perché lo stile di disegno lo definirei particolare, non è il mio, mettiamola così. E oltretutto è una storia da cui io mi aspettavo molto di più. Viene spesso consigliata e, mentre capisco perfettamente perché venga consigliata Marvels, su questa invece sono un po' perplessa. Io mi aspettavo molto di più da una storia ambientata in un futuro in cui Peter Parker è invecchiato, in un mondo distopico, in cui lui è rimasto solo, è indebolito e deluso da ciò che gli è successo e da ciò che sta succedendo. Invece l'ho trovato per nulla profondo, a banca abbastanza superficiale in alcune tematiche. Io credo che inserire un lutto all'interno di una storia o dei ragazzini che si vogliono ribellare al sistema e che le prendono dalle forze dell'ordine non è il modo di rendere una storia più adulta, più seria. Anzi, se fatto così, ne posso fare serenamente a meno. L'ho acquistato con gli sconti della Panini un po' me ne pento perché 30 euro al prezzo di copertina avrei potuto prendere un sacco di altra roba. Va bene. Fa niente. Era un classicone che prima o poi avrei voluto leggere quindi va bene così. Ho letto anche Deadpool 3 anche con Deadpool. Sono in ritardo con la lettura degli spillati ma non mi interessa, mi diverte molto. Ci sono un sacco di botte e un paio di pagine a numero dedicate a far proseguire l'intreccio la narrazione e a me va bene così. Onestamente non mi interessa nulla di più. Mi dispiace solo perché viene raccontata una storia d'amore in un certo senso che è appena nata e che sono abbastanza sicura finirà malissimo. Ma vabbè, vediamo. Wolverine 42 e 43. No, 41 e 42. Wolverine è una delle serie che seguo da più tempo in maniera abbastanza costante. Il numero 41 mi è piaciuto molto perché anche letto separatamente secondo me è un'ottima lettura, un ottimo spillato e parla di come affrontare e accettare anche i lati oscuri del proprio carattere. La seconda storia come le due storie all'interno del numero 42 vedono Wolverine in coppia con un altro supereroe di S.A. Sono team un po' strani che lo aiutano ad affrontare la minaccia che in questo momento sta attaccando i mutanti cioè Orchis. All'interno del 41 ci sarà Bruce Banner mentre all'interno del numero 42 prima incontrerà Capitano America e poi Black Panther. Nota di questi fumetti amo molto questo disegnatore alle prese con Wolverine secondo me è molto adatto. Ultimo fumetto di cui parlo in questo video Ultimate Spider-Man il numero 1 è probabilmente una delle uscite supereroistiche più interessanti dell'ultimo periodo per non dire dell'ultimo anno ci sono varie cose da dire su questo fumetto è scritto da Ickman e disegnato da Checchetto che sono i due nomi che mi hanno convinto a iniziare questa serie però ci sono tante cose che ho scoperto al di fuori della lettura del fumetto che è giusto sottolineare il Ultimate Spider-Man uscito all'inizio degli anni 2000 era un ottimo punto di partenza per i nuovi lettori è stato infatti un fumetto fondamentale per tantissime persone per avvicinarsi all'universo Marvel ma questo non è la stessa cosa a partire dal fatto che non è ambientato nello stesso universo quindi non è perché si chiama Ultimate che è ambientato nello stesso universo Ultimate e soprattutto non è sufficiente leggere Ultimate Spider-Man per capire la serie io questa a me questa cosa inizialmente non era chiara nel senso che io ho finito il numero uno pensando ok ci sono tante cose che non so ma probabilmente mi verranno spiegate prima o poi proseguendo la lettura invece non è così sono uscite due miniserie che sono indispensabili per la lettura di Ultimate Spider-Man non so se la lettura possa essere chiara anche senza recuperare queste due serie io onestamente per ora non ho voglia di recuperarle quindi continuerò a leggere Spider-Man finché ci capirò qualcosa lo mollerò nel momento in cui smetterà di avere senso a meno che non ne valga la pena ma è presto per dirlo le serie sono Ultimate Invasion e Ultimate Universe trovo un po' strana questa scelta però per parlare di questo fumetto a me è piaciuto molto i disegni sono incredibili ma non ne dubitavo che Ketto credo sia uno dei migliori in questo momento a lavorare alla Marvel mi piace questo Peter Parker invecchiato senza poteri dal tono molto adulto che si discosta molto da quello che era il suo personaggio in più Hickman è uno sceneggiatore che si concentra molto sul war building sugli intrecci che è una cosa che non sempre viene apprezzata ma a me piace molto è un autore che a me interessa non ho letto qualunque cosa abbia scritto anzi sono molto lontana da questo però sono su l'ultima Secret Wars House of X e Power of X che sono serie del sono recenti serie degli X-Men che a me erano piaciute quindi mi piace anche quando le cose si fanno un po' più complicate adesso è ora di passare ai romanzi parto da il migliore che ho letto a marzo e di cui ho già detto qualcosa cioè Violetta di Isabella Lenne ne ho parlato nel video dei preferiti è il primo dell'autrice che leggo ma sicuramente non sarà l'ultimo ho detto questa cosa anche nel video dei preferiti e infatti me ne è stato consigliato uno che credo andrò a leggere senza informarmi sul tema sulla trama non mi interessa il titolo è l'isola sotto il mare e voglio fare così perché anche Violetta l'ho letto senza sapere nulla della trama l'ho letto in questo modo di solito non mi lancio così casualmente perché era stato proposto come libro per il Club dei Corvi il gruppo di lettura che ho con alcune amiche ma che da più di un anno ormai l'abbiamo aperto a chiunque se volete partecipare nella descrizione del video c'è il canale Telegram che cosa mi è piaciuto di questo romanzo di questa finta autobiografia sicuramente il tono dell'autrice mi è piaciuta la diversità dei vari personaggi e il modo che ha di trattare anche temi molto complessi come la violenza o la tossicodipendenza mi piace come Violetta riesca a descrivere quello che gli è successo in maniera molto chiara molto lucida senza concentrarsi su come lei ha vissuto determinate vicende ma raccontandole nella maniera più trasparente possibile e mentre fa quest'operazione non toglie profondità alla storia non è un romanzo che punta alla lacrimuccia facile anzi ed è una cosa che ho apprezzato nonostante io sia una piagnona assolutamente infatti ho pianto leggendo questo libro poi ho ascoltato Denti Bianchi di Zaddy Smith è l'esordio dell'autrice dopo averlo ascoltato ho rivisto due video qui su YouTube uno che è stato il video che mi aveva convinto a leggere il romanzo di Elenia Zodiaco e un approfondimento sull'autrice del canale Miss Fiction Books ve li lascio tutti e due sia sia qui in alto che nella descrizione del video è ambientato a Londra e racconta la storia di due famiglie partendo dalla seconda guerra mondiale fino ad arrivare agli anni 90 capisco come mai sia così amato ma non so se mi ha convinto al 100% è stata comunque un'ottima lettura mi è piaciuto lo stile di scrittura quindi vorrei recuperare altro di suo nonostante so che nell'arco della sua carriera è cambiata tanto e ha spaziato su vari stili oltre che su vari generi quindi non so esattamente che cosa leggerò ora ho ascoltato anche l'audiolibro The Woman in Me l'autobiografia di Brincy e Spiers sono un po' delusa nel senso che mi aspettavo qualcosa di diverso mi aspettavo che si parlasse di più di alcuni temi e durante la lettura mi sono sorpresa perché sono state sottovalutate molte cose per esempio era solo il settimo capitolo e già c'era stata una violenza sottovalutata però che è stata sottovalutata sia da Britney Spears che raccontava la storia ma anche dal Ghostwriter che ha scritto questo The Woman in Me io avrei approfondito l'argomento ma vabbè ho la sensazione che siano stati sottovalutati tanti temi importanti e non parlo di fare pornografia del dolore anzi ma Britney fa una battuta sul fatto che lei e la sorella fossero molto diverse dalle loro coetane che le altre persone le guardavano male quando andavano in spiaggia perché avevano la permanente o i capelli decolorati in un'età in cui di solito non veniva fatto e poi allo stesso tempo non fa nessun commento sul fatto che in quello stesso periodo lei andava a bere con la madre ok cioè non hai l'età per farti la permanente ma è ok che tua madre ti porti a bere? siamo sicuri? non lo so ci sono molte cose che non ho capito in ogni caso e non mi aspettavo proprio il libro che mi cambiava la vita va bene così ora dovrò parlare super velocemente dei libri che mi mancano perché non ho più voce e tra poco devo andare quindi mi darò una mossa ho ascoltato La lingua delle spine che è una raccolta di racconti di Libardugo ambientata nello stesso universo di Tenebre e ossa e di Sei di corvi quindi del Grishaverse è una sorta di raccolta di leggende e di alcuni racconti come qualunque raccolta ci sono storie che mi sono piaciute di più o altre meno ma la scrittura di Libardugo a me piace sempre tantissimo quindi è stata un'ottima lettura in attesa che quest'anno venga tradotto speriamo The Familiar il nuovo romanzo dell'autrice che sarà uno storico romance fantasy non lo so non l'ho capito benissimo ma non mi interessa tanto voglio leggerlo ho letto anche La casa sul mare celeste sempre con il gruppo di lettura che mi è piaciuto molto lo volevo leggere dal momento in cui era stato tradotto in italiano finalmente l'ho letto e capisco perché è stato spesso paragonato a una scuola come quella dei mutanti di Xavier perché effettivamente parla di un orfanotrofio e un assistente sociale che viene mandato a controllare se le cose in questo strano orfanotrofio funzionano è un universo in cui la magia esiste ma è controllata dalle persone non magiche infatti il protagonista è un assistente sociale per il dipartimento della magia minorile l'ho già detto esiste un seguito di questo romanzo ma non mi interessa così tanto leggerlo perché secondo me ha un'ottima conclusione mi piacerebbe leggere altro dell'autore però finisco con due saggi sullo stesso tema a grandi linee l'ho uccisa perché l'amavo falso di Loredana Lipperini e Michela Murgia questo probabilmente avrei dovuto leggerlo nel momento in cui l'ho acquistato perché a questo punto ho già letto varie altre cose sull'argomento quindi non mi ha dato tantissimo in più di ciò che sapevo già parla di come vengono date le notizie di femminicidi è un argomento di cui parlava spesso Murgia anche sulle sue storie di Instagram quando purtroppo c'erano questo tipo di notizie e a proposito di femminismo ho letto anche femminismo per il 99% è ottimo secondo me molto semplice credo sia un pamflet da un centinaio di pagine mi ha fatto venire voglia come capita spesso con questo tipo di letture di approfondire alcuni argomenti di leggere altro di capire meglio che cosa si riferisce quando parla di alcune cose quando nomina alcuni movimenti femministi che magari non conosco o conosco solo superficialmente è il classico libro che leggo e mi fa venire voglia di leggere mille altri libri detto questo io ho concluso non so esattamente perché avvenga il raffreddore quando fuori ci iniziano ad essere 28 gradi 28 no ma 25 sì vi ricordo che nella descrizione del video trovate sia i link ai video che ho nominato sia i link ai libri e ai fumetti di cui ho parlato sono link affiliati quindi se acquistate da lì a voi non costa nulla e io ricevo una piccola commissione e detto questo vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti.